Maurizio Crozza torna in tv e riparte da Zelensky. Il videomessaggio che non vedrete a Sanremo, torna l'appuntamento con Fratelli di Crozza, il programma di satira di Maurizio Crozza che riparte dalla più stretta attualità. Nel promo, l'imitazione del presidente Zelensky, che ironizza sulle polemiche sollevate. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!